E' la tua fermata! E' la tua fermata! In bocca al lupo! Ti difendo io, amico! Non ti perderò mai di vista dall'elicottero! Poverty! Avanzata! Arriva la cavalleria! Forcerò fuori! Mi spezzerò come un ragonccello! Ricordiamolo! Buon ragazzo! Ti copro io, amico! Su la testa! Appagherai nel tuo stesso sangue! Muoversi! Muoversi! Trovatelo! Muoversi! Muoversi! Ti copro, amico! Prendi questo, Ivan! Tieni giù la testa, Ricco! Facciamo fuori quel russo! Subisce da me! Arriba la cavalleria! Scrappa! Scrappa! Ballerina! Attacco da bianco! Ora muori! Ti copro io, amico! Ti copro io, amico! Giù la testa! Bene! I figli della madre russia mangiano quelli come te a colazione! Scrappa! Non è che ci vado a prendere! Non è che ci vado a prendere! Ti copro, amico! Prendi questo, Ivan! Ora muori! Capone con un fuoco! Bene! Prendi questo! Di questo! No! Tieni giù la testa, Ricco! Facciamo fuori quel russo! Il nostro giapponese è ancora nella suite. Di sicuro a prepararci qualche brutta sorpresa. Vai lì dentro e occupati di lui! Attività ostile nel settore! A tutte le unità! Convergero nell'area! Sì! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi vergogno a combattere con te! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.